Al Pacino Al Pacino è sempre Al Pacino. Alla settantunesima edizione della mostra del cinema di Venezia, l'attore icona americano presenta ben due film e colpisce nuovamente per le sue incredibili interpretazioni. Nel film che porta in concorso al festival si cimenta in due personaggi molto ben scritti. In The Humbling di Barry Levinson, presentato fuori concorso, è uno dei più grandi attori teatrali della sua generazione, ma ora è sulla via del tramonto e ha perso tutta la sua sicurezza. Sarà un'inaspettata e travolgente donna a ridargli un po' di consolazione. Il Manglehorn di David Gordon Green, che gareggia per il Leone d'Oro, è un fabbro e un ex pregiudicato di una piccola città di provincia che non si dà pace per aver rinunciato in passato alla donna della sua vita per compiere un colpo. Non so, le cose vengono da me in mente. Non. L'altro film in concorso è Tre cuori di Benoît Jacotte, con Catherine Deneuve, Chiara Mastroianni e Charlotte Gainsbourg, tre donne che si contendono un amore. Connessi Silvie? Non. Nella sezione Orizzonti è stato presentato il film d'esordio di Michela Laïc, senza nessuna pietà, prodotto e interpretato da Pierfrancesco Favino. Grazie. Grazie. Grazie.